Yeah, nice one, eccoci qua amici, come vi ho annunciato questa sera a Monte Carlo Nights, abbiamo il piacere di ospitare un musicista che nel passato abbiamo suonato molto la sua musica, si chiama Christophe Goze, ha pubblicato fino ad oggi ben otto album, l'ultimo album, eccola qua, si chiama The Long Way Home, questa sera parleremo con Christophe di questo album e avremo il piacere di sentire suonare dal vivo un po' di questa musica e magari qualcos'altro del passato che abbiamo appena suonato. Diamo benvenuto a Christophe Goze a Monte Carlo Nights dopo un sacco di anni. Ciao Christophe, ciao. Welcome to Ready Monte Carlo, it's nice to have you as our guest after such a long time that we've been playing your music over the years. Yes, 10 years, 10 years. Tu parli italiano o... Un po'. Un po'. No, no, no parlo italiano. Senti, Christophe, sei stato in Italia tante volte, you've been in Italy many times or is this one of the first times that you've been to Italy? I came before, for the past two years I've been traveling. On holiday? On holiday, yes. What do you think about Italy? When you think about Italy from Paris, what comes to mind for you? Girls, pasta, wine, music, culture, Roma. Sun, good time, warm people. Warm people. When you think about Italy, what comes to mind for you, what comes to mind for you? He said, well, good time, and above all, beautiful people. Christophe, before we talk about your album, this new album, tell us a little bit about yourself, so we get to know you a bit more. You were born in Paris? I was born in Paris, my family is from the south, my father is French-Catalan. So, Spanish. Very strong Spanish influence, yes. But born and raised in Paris, and left Paris as soon as I could to Japan, where I started my music career. I stayed about seven years there. In Japan, where in Japan? In Tokyo. In Tokyo. Allora, let me translate the word. Allora, lui, io chiesto di raccontarci un po' di se stesso, lui è nato a Parigi, parigino, però lui ha detto che appena potevo, sono andato via da Parigi, è andato a Giappone, dove ha vissuto forse per sei, sette anni. E ha imparato, penso un sacco, anche di quella cultura a Tokyo. Vediamo cosa, cosa gli è piaciuto del Giappone e cosa ha imparato di quelle parti. So, what did you like about Japan and what did you get from that culture? What did you learn from that culture that helps your music? Japan is where everything started. So, I've learned everything I know about the business in Japan, basically. I arrived there, I had nothing, they, straight away, they signed me, then I started to do music for TV, TV commercials, things like that. Wonderful. And, yeah. And you like the Japanese culture? Yes, 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 very much. Allora, lui dici che per me è cominciato tutto un po' la mia carriera a Tokyo, perché mi hanno dato la possibilità di andare là e mi hanno preso, ha fatto un contratto discografico, ho cominciato a lavorare anche per la televisione, a fare colonna sonora e della musica, che è una cosa importante. Allora, ecco la sua CD, vi ricordo, si chiama The Long Way Home, la musica di Christophe Goze per farvi un massaggio per tutto quest'estate. Questa è la musica giusta. Grazie Christophe, è stato meraviglioso avervi finalmente a Monte Carlo. Siamo avvenuto a vedere te ancora e avervi ancora in questa parte del lavoro. Grazie. Christophe Goze a Monte Carlo Night. Grazie a tutti.